Un po' di luce Accendiamo un po' di luce Sì, un po' di luce Andrea Chiedi anche a voi che ti accende i servizi Perché è ancora più luce Ottimo Ave, ave, avevamo Versato il sangue Per una repubblica Se ti mettessi proprio sullo sgabbello dove fai Lo deve sapere il popolo Che ha perso dignità e diritti Siamo qui al Teatro Verdi In occasione dello spettacolo di Ascagno Celestini Pro Patria All'interno della stagione di Prosa 2011-2012 Del Teatro Verdi di Padova Grazie Ascagno per averci concesso questa intervista Parliamo allora del tuo spettacolo È un monologo per denunciare la condizione carceraria Ma al tempo stesso raccontare anche la storia d'Italia Da quello che ho letto Sì, guarda In realtà Nasce da una proposta di Mario Martone Che qualche anno fa mi disse Sto lavorando ad un film sul tema del risorgimento Io ho pensato Adesso tra un po' ci avremo una valanga Dei libri, film, fiction Tutte su risorgimento Tutte più o meno uguali E lui invece mi dice No, guarda Io ti chiederei di fare una lettura Su un episodio in particolare Che è il momento più alto Più importante del risorgimento repubblicano Che per quello che è stato L'arca parte sconfitto Perché poi noi abbiamo celebrato tanto l'unità del paese Ma l'unità del paese è stata con questa voglia Insomma Con una Diciamo È discutibile però in un certo senso Assoggettamento Dei larghe aree del paese Soprattutto al sud Con lo sconfiggimento proprio della vita anche quotidiana E perciò abbiamo celebrato questo Insomma un paese che è diventato Una repubblica Molti anni dopo Insomma Rispetto all'unità Perciò alla fine queste celebrazioni sono state Più l'unità del paese oggi Insomma Più, non so Dal punto di vista del napolitano Il rispetto per la bandiera Queste cose qui Più che Più che Un ripercorrere quello che Che realmente è accaduto Nei decenni passati E in particolare insomma In una seconda parte dell'Ottocento Ecco vede Vede Frizi Abbiamo o non abbiamo Da festeggiare Così incomincio a lavorare per questa lettura La portata a Torino nell'aprile scorso E ci sono alcuni elementi Che ritrovo Di quelli che sono i miei lavori passati Fabbri che piuttosto che pecora nera Insomma ma anche In un certo senso Scemo riguardo il ratico l'andestina Cioè il rapporto dell'individuo Con l'istituzione totale E soprattutto con un'ideologia Con una vicina del mondo Che taglia fuori tutte le altre Che poi è una condizione Non tanto differente Rispetto a quella che viviamo oggi Insomma con l'idea Insomma di un capitalismo Ideologia capitalista Che poi c'è il suo braccio armato Nella finanza Perciò incomincio a lavorare Su questo racconto Legato al 1849 E pian piano Incomincio a parlare insomma De galera insomma Perché Perché molti di quelli Che poi sono diventati Gli eroi risorgimentari Che hanno dato i nomi Alle strade e alla piazza Nel nostro paese Sono morti in galera Sono morti in insurrezioni armate Perciò insomma Un bel pezzo De cui la storia lì È stata una storia De lotta armata E di galera E quindi Il salto è immediato Agli anni 70-80 E a quello che è successo In quegli anni In questo paese Insomma Perciò alla fine In sintesi è la storia Di un detenuto Che molto probabilmente È finito in carcere Per un reato minore Io l'immagino Sia un rapinatore Ma insomma Un reato Comunque Così Insomma Non un reato politico Che poi insomma Aderisce a lotta armata Stando in carcere E la sua storia Arriva fino ad oggi Insomma Non so se è il 2012 O il 2003 Insomma Comunque A questi anni E termina Insomma Con tentativo Di inquadrare Anche qual è La situazione carceraria Ma non tanto Per parlare Delle carceri Quanto per parlare Della giustizia Che produce Questa situazione carceraria Perché noi Ci abbiamo Questa visione schizofrenica Questi ultimi anni Soprattutto quelli Che pensano Di essere sinistra Che bisogna rifare La magistratura Però poi E' uno scandalo Che Come Le condizioni Dei carceri italiani Soprattutto due cose Direttamente collegate C'era C'è Insomma Non sia morto Antonucci Uno psichiatra Che diceva Non si può essere Contro il manicomio Senza essere contro la psichiatria Perché è come essere Contro Auschwitz E non contro il nazismo Insomma E il nazismo Che produce Auschwitz Anche se Auschwitz E' diciamo La cosa più evidente Insomma L'alimento più evidente E' la psichiatria Che ha prodotto il manicomio E' la giustizia Italiana E quindi Tutto il sistema Insomma Della giustizia E' il suo punto di vista La sua ideologia Che produce Le carceri E quindi In questo modo Verso questa deriva Finisce lo spettacolo Quando parlo del carcere Al contrario appunto Che quando Cerchiamo di trovare Delle parole Da utilizzare fuori Insomma Da quel sistema Da quegli edifici Proprio Ecco nel carcere Che invece è pure Una lingua Che è tutta diversa E anche quella È interessante Nel senso Che a un certo punto Il personaggio Dice Che parla con Mazzini Insomma Parla italiamente Con Mazzini Dice Vedete Mazzini Insomma In galera Si parla La lingua straniera Che dal mio punto di vista È una lingua morta E infatti Gli erbivori Che poi sarebbero Gli ergastolani Insomma E i defunti Ci hanno un elemento In comune Non temono i processi I defunti Perché in galera Non ce li mette nessuno Gli erbivori Che da galera Non escono più E quindi Tira giù Tutto l'insieme Dei termini Che sono proprio Quelli del carcere La sbobba Della casanza Il sopravvitto La sbobba Della casanza È quello che si mangia La casanza È la galera Insomma Il sopravvitto È quello che tu puoi acquistare All'esterno Però lo acquisti Attraverso lo spesino Che è quello A cui chiedi Il fai orientalista De la spesa Per fare Diciamo Questa domanda Si chiama domandine In carcere Soprattutto mediante domandine La domandina È parlare Magistrale Sorveglianza La domandina È parlare Con l'avvocato È tutta un'altra serie Dei nomi Che si utilizzano Solo là dentro Che però Pure in quel caso Individuano Il meccanismo Infantilizzante Delle istituzioni Cioè il detenuto Non fa la domanda Fa la domandina Insomma Il detenuto Che gira Per prendere Diciamo Le ordinazioni Del sopravvitto È uno spesino Insomma C'è Fino a poi A quelli Diciamo Più Decifrabili Che sono Tipo Il detenuto Che viene chiamato Camoscio Non dagli altri detenuti Ovviamente Ma dai guardie Insomma È la guardia Che invece deve essere Chiamata superiore Anche se Quella lì È una guardia Ma non In senso Dispregetivo Si chiama guardia Insomma Per cui Anche se Il termine Camoscio Io credo Che venga Dalla fine Negli anni Settanta Veniva chiamato Circurio Dei Camosci I supercarceri Istituiti Dalla chiesa E i Camosci Erano sostanzialmente Detenuti Quelli considerati Pericolosi O i grandi rapinatori O i grandi rapinatori Da Lanzasca Questi qua Piuttosto E appunto Soprattutto I politici I detenuti politici Che venivano Isolati Però in qualche maniera Anche dal punto di vista Dei guardie Questo Tenuti Non con rispetto Insomma Ma con attenzione Come se fossero Animali Particolari Insomma I Camosci Poi da lì È diventato normale Che Spesso Il detenuto Si chiamano Camoscio Ma il detenuto Chiama la guardia La chiama superiore Quando gli si rivolge Però altrimenti Quando non c'è la guardia La guardia Ma la chiama la secondino O addirittura Gira chiave Per cui In queste parole Nell'uso di questi termini Noi individuiamo immediatamente Che tipo di relazioni Ci stanno All'interno Di questa istituzione Criminale Che è il carcere Abbiamo la fortuna Di poterti intervistare Sul palco Quindi all'interno Della tua scenografia Vedo un piccolo pratino All'inglese Una sedia E poi dietro Un cartonato Con anche degli articoli Di giornale Sullo sfondo Oltre appunto Al discorso Sulla controvertigine La tua locandina Vedo anche Fare capolino Carlo Giuliani Allora Questo discorso Sulla controvertigine È un discorso Che il detenuto Sta preparando Che farà Non si sa bene come Insomma Si capirà Durante il corso Dello spettacolo E quindi è un po' Una falsa locandina Ovviamente Il detenuto Non è che stampa Le locandine Però è un po' Come se Questo fosse Un vero e proprio teatrino Che lui appunto Chiama Non questo qua Ma lo spazio In cui vive Che so due metri per due Insomma Che è più o meno Quanto c'ha un detenuto In Italia Insomma Calcola che ci sono Dei carceri dove C'hanno anche molto Quello spazio Dove non ci si sta Tutti in piedi Dentro una cella E dove c'è anche Meno di un metro A persona Altri carceri Fortunatamente Sono un pochino più Diciamo Non confortevoli Che è una parola Che non si adatta Per niente al carcere Però c'è un po' Più d'aria A disposizione di ciascuno E calcola che l'Europa Ci chiede Che in una cella singola Ci siano almeno Sette metri quadrati E non meno Dei quattro metri quadrati Per ogni detenuto In celle doppie Appunto Quando tu metti Un detenuto In un metro quadrato In un metro quadrato Significa Che lo tratti Peggio Dei un maiale Perché sempre I direttivi europei Ci indichano Sei metri quadrati Per ogni maiale E quindi questo qui È più o meno Lo spazio Che può avere un detenuto Che non gli è andata Manco tanto male Donetti per due L'erbetta a terra È l'erbetta dell'erbivo Appunto Del detenuto Che uscirà il giorno 99 Del mese 99 Dell'anno 9999 Sai che adesso Per i computer Bisogna mettere una data Per forza A chi ci allergassero Non esiste una data E quindi Questa data assurda Poi tra questi falsi Siamo cartelloni Fanno appunto Capodino Sia delle facce E io ho cercato Proprio le facce Quelle che Che noi abbiamo visto Sui giornali E sia frammenti D'articoli E poi qui c'è appunto Carlo Giuliani Giorgia Namasi Di Sevo Questo è Mastro Giovanni E qui stanno I frammenti Delle fotografie Degli arti massacrati Lui morì Stando oltre 80 ore Legato a un letto Di contenzione E lì c'è Aldrovandi vivo Qui c'è Aldrovandi morto Poi c'è Sole e baleno Lì sotto Sole da sola Là Qui Stefano Cucchi Poi c'è Pinelli Poi chi altro Ce ne stanno altri due e tre Uno è Niki Aprilegatti Poi Giuseppe Uva E Aldo Bianzino E che so Tutti i nostri concittadini Che so In una maniera o nell'altra E poi senza da Non so magistrato Non accuso Nessuno Però in una maniera o nell'altra Sono persone che sono morte Dopo un incontro Più o meno equivoco Insomma Potete interpretare cose E quindi attraverso Una chiave di lettura Cercare di capire anche Quale sarà il comportamento Nostro futuro Insomma Perché D E le guardie hanno sparato a quello Serve poco Insomma Poi ti metti sulla stessa lunghezza D'onda Appunto Dell'idea Della filosofia processuale Per cui se uno commette Un atto Considerato reato Allora deve essere punito Invece Qual è il comportamento Nostro futuro Cioè Per il prima Che vengono commessi O non commessi I reati Prima che venga ammazzato qualcuno La cosa assurda È pensare Che uno muoia in carcere Cioè Tu sei sotto custodia E la custodia Non significa Che te lego Che ti faccio morire Insomma Teoricamente Entrare in carcere Dovrebbe essere come Entrare in pronto soccorso Cioè Tu entri in pronto soccorso Io ci andai una volta Perché pensavo Dai l'infarto Invece era solo ansia Appena sono entrava dentro Anche loro pensavano Che fosse infarto Ma è stato benissimo Era solo un po' deficiente E lì ti dicono Non si preoccupi Adesso che È nelle nostre mani E quindi tu Ti tranquillizzi Invece pensare Che uno finisce in galera E che poi muore I suicidi In carcere So da interpretare Insomma Oltre che molti muoiono Apparentemente Suicidati Ma magari sono tossici Che si sono filati A testa In un sacchetto di plastica Che hanno aperto la bomboletta Perché Il 30% dei detenuti Sono tossici Per cui in qualche maniera Questi qui Devono passare A giornata Insomma E quindi Occiano del denaro E possono comprare Droga in carcere E O si ammazzano Dei psicofarmaci Ammesso Quelli ripassino Oppure devono in qualche maniera Fare dei mischioni Sniffare roba Fino a che a un certo punto Un giorno ci rimani E quindi capisci Che insomma Quest'idea della custodia E su questa Dovremmo ragionare Più ancora Che sul numero Dei morti O E comunque Dovremmo lasciare Ai giudici Insomma Definire chi è colpevole E chi non lo è Anche se certe volte Insomma Ci rimaniamo un po' male Rispetto a certe sentenze La cosa che Però impressiona Perché poi mi chiedeva Un'amica Dice ma dove sei andato A quello nuovo A quello vecchio Al castello O O ai due palazzi E dico no no Quello nuovo E ci ha visto Fa impressione Ecco E Pure lì Fa impressione L'idea dell'edilizia carceraria Cioè E' sempre stato molto importante Sia per i manicomi Ma anche per gli ospedali E Tanto più Insomma per i carceri Quelli costruiti come carcere Perché poi Ci sono dei carceri Che in realtà sono Degli ex conventi Insomma Edattari a carceri E Il luogo è già Una visione del mondo Lo è sempre O comunque lo dovrebbe essere sempre Però in quel caso lo è già Nel caso del manicomio Il manicomio Il luogo E' anche il mezzo Per attivare La cosiddetta cura morale Cioè l'ordine degli oggetti Rimette in ordine Il disordine della testa Che poi è una stupidaggine Ovviamente E' quello che però fa La casalinga depresso Anche io Ti infia tutti gli oggetti Pulisci bene casa Perché pensi in quella maniera Tu riordini Il disordine che c'hai Nella tua vita Nel carcere Tutto questo qua Diventa ancora più estremo Perché se Lontanamente Perché se lontanamente C'è un'idea di cura Per il paziente E lo spazio psichiatrico Dico molto lontanamente Nella realtà Non è mai così Nel caso del detenuto Un'idea di rieducazione Che poi è una parolaccia Ma comunque Di ricollocazione Di riconciliazione Con la società Non esiste proprio E lo vedi insomma Cioè non riconcili Uno mettendolo in gabbia Cioè lo riconcili Cercando di ricostituire E ricostruire Insomma delle relazioni Con l'ambiente Invece quello è proprio Il contrario De quello che Che viene sbandierato All'esterno Insomma In più vedi Stetizia carceraria Che è scandalosa A parte il fatto esterico Che può piacere o non piacere Ma che piaccia a qualcuno Quel luogo lì Non ci credo Ma tu vedi proprio La sintesi del peggio Della cultura palazzinara Cioè vedi proprio Hai fatto Il carcere più Più duro Spendendo meno soldi possibile E ti dà pure l'idea Insomma quando vedi Queste strutture qui Che qualcuno ci ha Magari anche guadagnato Ma questo È secondaria importanza Insomma Però vedi proprio Tu dici Fa schifo quel posto Ecco Fa schifo Perché Perché è schifosa L'ideologia Che sta a monte All right Oh yeah, let's stop and finish in the jailhouse tonight Oh boy